Ben trovato a Ciccerrigo, allenatore mister dell'Azzaro. Mister, oggi purtroppo non è andata bene per voi. No, il risultato dice questo. Abbiamo perso, sicuramente contro una buona Cinquecentese. Sicuramente, alla fine, forse il risultato non è stato quello più giusto, ma non per quello che si fisse in campo, perché Ciccerrigo ha avuto le proprie buone occasioni inizialmente di fare voglia. Però per l'andamento di come è poi andata la gara non accetto la sconfitta, perché per come è venuta, per il comportamento, troppo devo scusare, ma è la verità, il comportamento che si è tenuto in campo dagli avversari, per essere messo i giocatori, il comportamento ostile, il comportamento... Mi scuso di nuovo, ma devo dire anche sportivo. Ben trovato a Maurizio Maio, tecnico della Cinquefrandese. Maurizio, ciao Maurizio. Dopo la battuta d'arresto di Melicuccona, subito una pronta ripresa, con una prestazione orgogliosa. Credo che dopo il derby era dura ricominciare, è stata una settimana con i ragazzi molto dura, abbiamo preparato una partita importante contro una squadra attrezzata anche loro per vincere il campionato. Credo che alla fine abbiamo preso questi tre punti importanti che ci porta e ci fa morale verso le altre partite, visto che perdere un derby al novantesimo fa male, credo che portavamo ancora le scorie di quella sconfitta. alla fine hai a fare un'intermigio.